Non so cosa scrivere. Sono davanti a questo foglio bianco da almeno mezz'ora e proprio non so cosa scrivere. Vorrei narrarvi di un viaggio mozzafiato, vorrei farvi morire di invidia per la bellezza dei luoghi visitati, vorrei raccontarvi della felicità provata, eppure non ci riesco. Dovrebbe essere tanto semplice aprire il programma di montaggio, buttarci dentro un paio di clip di persone locali, dei momenti visitati, delle nostre facce sorridenti, aggiungere qualche effetto figo e unire il tutto con una traccia orecchiale. No, funziona sempre, ma questa volta proprio no e non so il perché. Forse non sono ancora riuscito ad assimilare questo viaggio, forse non ho ancora realizzato che è veramente finito, o forse non sono semplicemente abbastanza bravo, ma non mi arrendo, ci riprovo. Abbiamo assistito a spettacoli di strada, studiato le meraviglie della scienza, visitato paradisi terrestri, siamo letteralmente entrati nella storia e abbiamo ammirato la vita nelle sue forme più delicate e più pericolose. Questo non è raccontare, è solo fare un elenco della spesa. Perché, perché non riesco a raccontarvi tutto questo come vorrei? Vedete, David Lynch dice che cerca un'idea e come andare a pescare. Si va nel posto giusto, si cala l'amo e si aspetta che un'idea prima o poi abbocchi. Nulla di più complicato di così. Ma se io, il mio posto giusto, non lo avessi ancora trovato? Io, il mio posto giusto, non lo avessi ancora trovato.